Per chi non sapesse cosa erano gli hobo, gli hobo erano i senza casa, quelli che saltavano sui treni negli anni 30, negli anni della grande depressione, negli anni delle tempeste di sabbia in cui non c'erano tanti modi per vivere se non quello e saltavano da un treno all'altro per spostarsi, per andare a suonare, per andare a cercare fortuna, magari dall'Uklauma alla California e non era proprio una vita facilissima e questo parla della nena nanna del vagabondo che è costruita con il rumore incessante delle rotaie del treno. Allora Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie.